buongiorno a tutti nel video di oggi vi farò vedere come si realizza una piramide con le bombolette ovvero con la tecnica della spray art e non perdiamo tempo vi lascio subito al video per realizzare la nostra piramide abbiamo bisogno di un foglio da rivista non giornale perché la rivista è plastificata e non assorbe il colore iniziamo dando la forma della piramide e successivamente aggiungiamo il colore copriamo lo spazio colorato con la rivista e cerchiamo di fissarlo bene adesso iniziamo a dipingere lo sfondo con un colore ovviamente diverso da quello utilizzato in precedenza possiamo anche come in questo caso aggiungere un punto luce per far risaltare meglio la piramide in seguito bisogna dare l'ombra perciò abbiamo bisogno di una spatola e il colore nero fate molta attenzione con questo passaggio perché dovete spruzzare in modo tale da non macchiare tutto il foglio all'inizio può essere un po difficile ma col tempo ci riuscirete ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti se è stato utile questo tutorial fatemelo sapere e bella lì amanti del latte bella lì amanti del latte